Speravo di trovarti qui. Sono passati due anni e tutti sembrano già aver dimenticato. Il peccato più grande che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare il sonno, il lungo sonno. Questo è ciò che i siciliani vogliono ed essi odieranno sempre chiunque voglia svegliarli sia pure per portare loro i più meravigliosi doni. Mi sembrava giusto commemorare la morte di Scaglione con le parole del Gattopardo. Non è cambiato nulla dall'ora, purtroppo. Domani voglio fare uscire un articolo sullo stato delle indagini. Mi puoi dire qualcosa? Due anni fa abbiamo arrestato 117 persone, tra cui moltissimi boss mafiosi. Lo sai quanti di loro sono ancora in carcere? Meno della mia età. E stanno tutti per essere rilasciati, compreso Badalamenti. E i corleonesi? Sono tutti latitanti. La Scaglione me lo diceva sempre, il problema non è arrestarli ma tenerli dentro. Queste cose la gente le deve sapere. Bisogna scuotere l'opinione pubblica. Marco, io apprezzo quello che fai, quello che fate, ma stai attento perché anche voi giornalisti siete nel mirino. Non ci scordiamo la fine che hanno fatto fare a De Mauro. Anche il corpo siamo riusciti a trovare e nemmeno la degna sepoltura che abbiamo dato. Tu sei quello che rischia più di tutti, Boris. Dici? Vorrà dire che un giorno sentirò gridare Dottor Giuliano! Ma solo alle spalle mi possono colpire.